No alla manovra del governo Conte. Domani mattina dalle 10.30 di fronte alla prefettura, le pantere grigie dei sindacati CGL e Cisle Will scenderanno in piazza per opporsi alla legge finanziaria giallo-verde, in particolare per i contenuti che riguardano le novità pensionistiche. Per la terza volta consecutiva a Fornero in poi si prelevano risorse dei pensionati. Questo che doveva essere il governo del cambiamento alla fine non ha fatto niente di diverso di quello che ha fatto Renzi, che aveva fatto la Fornero, che aveva fatto Letta. Le pensioni da 1.000 euro a 3.000 euro l'ordine, stiamo parlando quindi di pensioni che a netto valgono 900 euro o 1.500 euro al mese, sono quelle più tartassate. Siamo fermamente convinti che il governo debba tenere aperto il confronto con il sindacato. Per l'ennesima volta si è messo da parte, ma da parte proprio per l'angolo, i giovani che comunque è la prima risorsa che questo governo avrebbe dovuto pensare.